Io sono Luca Terzaghi, sono il direttore regionale Emilia-Romagna con sede a Bologna. Teolepore, sindaco di Bologna. La caserma Perotti è sostanzialmente uno dei tantissimi beni dismessi dalla difesa in Italia, questa si trova in zona piuttosto centrale e per una sua porzione è già oggetto di valorizzazione da parte dell'Agenzia del De Manio. La caserma Perotti è il progetto che candidiamo a Reinventing Cities, un intervento di rigenerazione urbana per un bene molto importante in un quartiere periferico di Bologna che dà una risposta al bisogno abitativo che la città ha in grande crescita democrafica. Il nostro obiettivo è dare nuovi 400-450 posti per studenti a canone agevolato e riqualificare tutta l'area con l'edilizia privata che faccio ad Atraino. È un'occasione per avere a livello internazionale visibilità e raccogliere progetti capaci di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che la città si sta dando. Noi siamo tra le 100 città europee che devono raggiungere ad esempio la neutralità carbonica entro il 2030 e quindi Reinventing Cities su questo città ha soluzioni. Diciamo 10 requisiti fondamentali per la sostenibilità di un progetto di cui ne impone la soddisfazione e il soddisfacimento e questo è importante perché non è un progetto speculativo ma è un progetto di sostenibilità ambientale.